Tu hai involucrato solo per questo? Vito, tu eri un senso. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Far ti ammazzare. Allora... Sei pronto per il tuo destino? Ah, dai. Non pensavi di dover tornare qui, vero? Beh... I piani possono cambiare. Sei arrabbiata? Sì, lo sai. C'è ancora solo una cosa che bisogna fare prima di recuperare l'ambra. Prima? Io non scendo mai a parti, Luis. Pensa bene a quello che stai per dirmi. Ascolta... C'è qualcuno che devo aiutare. Mi conosci? Sono un buon samaritano. Non mi dire. Leon? Sì. Esatto. Leon e quella ragazza... sono entrambi infetti. C'è questa medicina che rallenta l'infezione e... so che funziona. L'ho usata. Su di me. Quindi... Perché dovrebbe importarmene? perché sei infetta anche tu. Ormai è da anni che studio queste cose, Ada. I tuoi occhi mostrano già i sintomi. Dovresti cominciare a sentirne gli effetti, sbaglio? La medicina li fermerà per un po'. Devi... fidarti. Hai tutto da guadagnare... e niente da perdere. Ok, ma sarà la tua ultima chance. Prima questo... e poi l'Ambra. Io chiamo Leon. Ola. Qui è Luis. Siete ancora in giro? Io volevo andare a casa, ma... Ashley ci teneva a vedere il castello. Perfetto. Perché ho un regalo da darvi. Una medicina che frena lo sviluppo del vostro problema. Dove andiamo? Vediamo... nel cortile interno del castello. Incontriamoci lì. Ciao. Perdona l'attesa. Allora andiamo? Dopo di te... Che cavaliere. Non va. C'è un laboratorio segreto di sotto. La mia roba è tutta lì. e anche... la medicina. E anche... la medicina. che fine farei senza di te, Ada? Cibo per mostri? Sta bruciando qualcosa? Lo scopriremo. Ah, ovviamente. No! 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 Grazie. No, no, no! La nostra medicina sta bruciando! Luis, lascia stare! Luis! Fai sul serio? Luis, torna qui! Fai sul serio? Se proprio vuoi ammazzarti, potresti farlo dopo aver consegnato l'Ambra? È finita È tutto distrutto Perché è così importante per te? Ci sono delle cose che devo sistemare Ma farlo ora è impossibile È finita Non posso più aiutarli Ora basta frignare, Luiz Fanne alta Sei in grado, puoi farlo Forse hai ragione Il necessario è tutto qui Nel castello Sì, mi serve tempo Ma ti darò la tua Ambra Bene allora, andiamo Possiamo risalire da qui Poi pensiamo alla prossima mossa Di qua? Ehi Ma tu per chi è che lavori? È meglio se non sai nulla Fidati Potresti anche lavorare per il diavolo in persona Basta che mi porti fuori da qui Oh yeah Apro io qui E la chiave Ma merda Devo averla persa Sì, non è vero Sì, non è vero Ok, non sarà il mio lavoro migliore, ma dovrebbe funzionare. Ada, devi trovarmi queste cose. E così forse riuscirò a produrre la medicina. Il tempo non è molto. Tu vai, portamele e io ti prendo l'ambra. Prega per me. E adesso andiamo. Buona fortuna. Anche a te. Ok, iniziamo dalla legatoria. Cora. Cora. Un ricordo di Raccoon City è proprio destino. Ho della merce che sembra fatta apposta per una professionista come te. Complicato? Il primo dovrebbe essere in questa stanza. Cora. 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 ulated. Cora. Sì, sì. Ecco l'inchiostro. Non muovere un muscolo, Leon. Non vuoi che usi questa, vero? Dopo ben sei anni, questo è il saluto che mi merito, Ada. Non sembri sorpreso. Interessante. Il coltello è meglio per il corpo a corpo. Una bella mossa. Davvero di classe. Per chi stai lavorando stavolta? Oh, Leon. Lo sai che sono riservata. Dimenticala. È spacciata in ogni caso. Se vai via adesso, chissà. Forse ci rincontreremo. Potrei darti quel saluto che desideravi. Credi mi arrenda così facilmente? Giusto. Rimandiamo la conversazione un'altra volta, ti va? Ci vediamo, Leon. Oh, no. Sì, sì. il cancello e il gong hanno lo stesso simbolo piuttosto facile non Ah, ho un brutto presentimento. Ma chi pensa a queste cose? Ma chi pensa a queste cose? Ma chi pensa a queste cose? Bene, adesso cerchiamo il secondo. Qui ci vorrebbe qualcosa. Una trappola. Vi. 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 che succederà. Appunto. Alla prossima. 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 Dovrei andare giù. Questa è la sala della collezione. La farfalla blu. Interessante. Questa è la sala della collezione. Questa è la sala della collezione. Questa è la sala della collezione. Bene, perché io ho quello che serve a te. Non è un buon segno. Il parassita reagisce all'ambra. Questa è l'ambra? Ecco perché Wesker la vuole. Questa è l'ambra. Questa è l'ambra. Questa è l'ambra. Questo bloccherà il parassita. Ma solo per un po'. Sei pronta? Tu saluto. Ma ricorda, non è una cura. Dobbiamo comunque liberarti da quella roba. Arriba. Arriba. Non capisco perché non sta funzionando. Prendi l'ambra e vai. Quando il parassita sarà sedato, mi darai quella maledetta pietra. Io non ti lascio qui. Non in questo stato. Ma smettila. Me la caverò. Hai una promessa da mantenere. Va bene. Ma vieni a cercarmi. Appena stai meglio. Grazie a tutti.